Filomena Ricci, illustrate le attività che farete come WWF Abruzzo in questa lunga estate nelle oasi che sono un po' il fiore all'occhiello proprio del WWF. Le oasi del WWF in Abruzzo, alcune delle quali, molte delle quali sono anche delle riserve regionali, rappresentano un po' tutti gli ambienti più evocativi e più rappresentativi della nostra regione, dalla costa fino alla montagna. L'iniziativa che proponiamo sono escursioni sia di giorno che di notte, laboratori per bambini, canoa sul lago, biowatching per imparare a scoprire gli animali presenti nelle nostre oasi. Tutte le attività servono per raccontare quelli che sono gli ambienti, le piante, gli animali che le nostre oasi proteggono, ma sono tutte occasioni non solo per far passare un bel pomeriggio, una bella giornata alle persone, alle famiglie, ai bambini, ma soprattutto per veicolare dei concetti di educazione ambientale e di protezione della natura. Le oasi in Abruzzo attualmente sono sei. Partiamo dalla storica Lago di Penne, poi abbiamo il Lago di Serranella, nella provincia di Chieti, le cascate del Verde a Borrello, i Calanchi di Atri ad Atri, Gole del Sagittario e l'osi affiliata di Martinsicuro. Il messaggio che diamo oggi è che c'è anche altro oltre al mare e ovviamente stare in natura va sempre bene, in particolare l'estate che magari abbiamo bisogno anche di refrigeri, così riscopriamo anche la bellezza di stare in un bosco oppure comunque in un ambiente naturale dove sentiamo meno il caldo.